Non abbiamo spoilerato nulla però Raul, fino adesso abbiamo parlato del più e del meno quattordicesima stagione, Don Matteo, tu sei Don Massimo, sei subentrato lo scorso anno ma un po' di spoiler ce lo devi fare. Che succede in questa stagione? Che succede? Succede che inizia con dei grandi matrimoni dei grandi matrimoni che sono... che io celebrerò Beh tu sposi, tu sposi. Esatto, però da questi matrimoni poi alcuni personaggi entreranno nella serie, altri ne usciranno, quindi ci saranno nuove entrate e nuove uscite tra cui il capitano, tra cui il nuovo PM e la storia sarà molto divertente perché questo nuovo capitano quando entrerà, entrerà in incognito quindi metterà il nostro bravo Cecchini, buon Cecchini, alla prova per essere riconosciuto quindi si fingerà un barbone, si fingerà una cosa per vedere come reagisce lui mentre invece Don Massimo avrà una prova molto difficile perché al di là del suo lavoro quotidiano di andare in classe, farà religione con i ragazzi, che è una cosa molto bella li porterà in gita e con i bambini più piccoli racconterà delle cose molto belle, molto romantiche molto sulle stelle, sul cielo, sull'etimologia di alcune parole come sider, sideris, desiderio, dal desiderio praticamente attenzione è il momento super quark di Raoul Boa attenzione, attenzione è bella questa cosa che il desiderio arriva dalla parola sider quindi sedere diciamo, il desiderio arriva dal sedere spesso succede Luca! stella, 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 quindi chi desidera, diciamo il desiderio arriva dalle stelle da chi guarda le stelle, quando c'era qualcosa si guardavano le stelle quando si dice distanza siderale desideris, de è la radice di allontanamento, il latino sarebbe praticamente allontanarsi dalle stelle ovvero, scusa mi sono trovato, mi piace un sacco però poi interverrà anche Alan Sorrento desiderare significa che, è il contrario di considerare ovvero che io non considero il parere delle stelle perché ho la mia idea più forte quindi desiderare allontanarmi dalla stella perché so quello che voglio scusate io poi riascolterò questa puntata per capire ma è pazzesco esatto tutti con la terza media oggi qua questa parola desiderio, spesse volte noi la rendiamo così i bambini avranno una visione diversa quindi considereranno anche il cielo questa è una cosa molto bella molto bella, poetica, che io ho rovinato hai rovinato però io sto qua apposta, io per rovinare i sogni e poi arriverà mia sorella prego, prego, vuol dire qualche altra cosa sulle stelle? no, no, ho detto vedrò Don Matteo e basta arriva tua sorella, ma a che ora arriva tua sorella? ne hai conquistato mia sorella sta arrivando, è un po' in ritardo tua sorella ti dà un po' filo da torcere mi dà un po' filo da torcere perché è quella che ha combinato sempre guai in famiglia anche gravi, quindi io non volevo più vederla per molti anni poi si caccia ulteriormente in un problema grave e quindi la mettono un po' a casa cioè gli danno dei lavori socialmente utili e caso strano la mettono in canonica da me quindi siamo costritti a vivere quello che è successo con Ema che noi abbiamo dovuto accogliere qui in canonica a Radio 2 Social Club perché è una ragazza che ha provocato parecchi sono qua per i lavori socialmente utili se no non lo farei mai questo programma quindi sono veramente costretta che vita fai tu lì quando non sei sul set? beh, praticamente sempre sul set il problema sono le attese le attese sul set sono interminabili sono interminabili, sì, vabbè però quello, come diceva un grande attore sei pagato per quello fondamentalmente no, come diceva un grande attore dice al giovane attore che voleva cominciare dice che cosa devo avere per fare carriera nel cinema? si procuri una sedia anche quello le attese sono veramente sul set incredibile no, io dormo nella caserma dormi nella caserma? dormo nella caserma nel palazzo che è stato arredato a caserma quindi mi vado a mettere in cella non tutti i preti dormono in caserma non tutti i preti dormono in caserma no, no, veramente sto lì e niente contemplo fino al giorno dopo però ragazzi qua c'è del sexy sul sexy a Raul Bova dorme in caserma molto bene ascolta